Inaugurata ufficialmente la rotonda di accesso alla città con tutti i monumenti più rappresentativi di Tolentino. Finalmente quest'opera d'arte. Abbiamo messo insieme la sapienza e l'esperienza delle mani di Quintilio Ciamarra e di Enzo Grassettini che hanno fatto i monumenti che vedete alle mie spalle e di fianco, nello specifico la cattedrale di San Catervo da Enzo Grassettini e tutto il resto da Quintilio Ciamarra. E anche la maestria, l'imprenditoria e la voglia di fare di due ragazzi giovanissimi che hanno scelto la via della partita IVA e del lavoro, quello sudato e quello importante, per dare un valore aggiunto alla città al pari dei tantissimi altri imprenditori che all'interno del nostro territorio sicuramente fanno delle opere importanti e fondamentali per la comunità. È una rotatoria che è stata indubbiamente molto discussa, lo sappiamo, lo abbiamo letto, i social poi si prestano particolarmente anche a commenti di qualsiasi natura, però sicuramente quando su una questione c'è tanta discussione sicuramente è perché è una cosa che suscita interesse. Poi si può fare di più, si può fare meglio, si può fare tanto, è assolutamente vero. L'importante è che si faccia, che si cerchi di fare il bene possibile per il bene della comunità. Questa è una rotatoria che all'ingresso di Tolentino permette di vedere le bellezze che ci sono all'interno della nostra città e sono posizionate esattamente alla stessa maniera di come sono nella realtà. I fratelli scattolini di Verde Più hanno realizzato questa rotatoria che molto ha fatto discutere ma che è anche molto piaciuta. Diversi mesi di lavoro, ma come è nata l'idea? Insieme a mio fratello Edoardo, quattro anni fa stavamo pensando di prendere una rotatoria per la nostra attività, per pubblicizzarci e così ci è venuto insieme a mio fratello e ad Emanuele Massi, un nostro collega, questa idea di fare Tolentino in miniatura. Quindi iniziando con quest'idea abbiamo interpellato gli artisti della zona, quindi Quintilio ed Enzo, con cui ci siamo messi sotto e abbiamo creato queste stupende strutture. Poi col passare del tempo abbiamo presentato il progetto in comune e grazie al sindaco Giuseppe Pezzanesi e la vice sindaco Silvia Luconi siamo riusciti a poter realizzare questo progetto che quattro mesi fa abbiamo iniziato qui sul posto direttamente e poi con due mesi di lavoro perché purtroppo le temperature non ce l'hanno permesso, quindi ogni tanto le piogge ci bloccava i lavori, ma alla fine siamo riusciti a realizzarla nel migliore dei modi. È un'opera secondo me anche molto importante perché una rotonda così a livello nazionale e forse anche mondiale non c'è in giro. Quindi qualsiasi turista che ad oggi arriva a Tolentino riesce a rimanere a bocca aperta perché dice cosa c'è là, magari potrebbe fare un giro di più, però rimane a bocca aperta. Non a caso questa mattina sono arrivati tre pullman di turisti qua a Tolentino e ho notato che la guida stava spiegando la rotonda a tutto il pullman con tutti i turisti che dall'alto del pullman facevano il video della rotonda e questo qui mi ha veramente ringorato.